la trattativa è andata bene tutto a posto ho filmato oggi dopo gli allenamenti e niente ho scelto Pineto perché grazie al mister che mi ha voluto fortemente la società il presidente il direttore e niente ho scelto per questo e poi perché come piazza mi incuriosivo sì 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 in passato da piccolo già ho fatto il terzino però mi piace più giocare a tre braccetto di sinistra niente speriamo di fare bene di aiutarci entrambi con i compagni di arrivare all'obiettivo che vogliamo di vincere il campionato